Siamo con Luigi Abete, presidente BNL, gruppo BNP Paribas e presidente di Lewis Business School, qui per affari italiani. Oggi si parla di rilancio del sistema bancario italiano in Europa. Abbiamo fatto questo seminario a cui hanno partecipato tutti i principali esponenti delle grandi banche operanti in Italia, proprio perché sono tutte le condizioni, visto che la crescita sta aumentando per dare un segnale e un'attenzione nuova al contributo che il settore finanziario, quello bancario in particolare, può portare a questo risultato. Mi sembra che ne è apparsa una fotografia di un settore che ha saputo reagire alle difficoltà sistemiche legate alla recessione, legate al contesto internazionale, che ha superato alcuni punti di crisi con un contributo pubblico molto limitato e comunque molto inferiore a quello degli altri paesi europei e che oggi si propone di essere competitivo e anche adeguato alle sfide di una fase che speriamo sia di crescita consolidata. Ovviamente ha di fronte una serie di cambiamenti, quello tecnologico, quello regolamentare e l'effetto che questi cambiamenti avranno sulla struttura del settore bancario sono oggetto del seminario di oggi e quindi speriamo che tutti quanti ne possiamo dare utili insegnamenti.